Ciao a tutti e bentrovati nella mia cucina. Ve l'avevo già detto che odio buttare via le cose e quindi sicuramente anche nel vostro frigorifero prima o poi finirà una ciotolina con degli albumi che non sapete utilizzare. Per questo ho pensato a una ricetta per voi, una ricetta per recuperare gli albumi con degli ingredienti che adoro e che facilmente si trovano nel vostro frigorifero. Come ad esempio una mozzarella che magari sta per scadere che può essere benissimo sostituita con a pari peso da un altro formaggio, stracchino, squacquerone, crescenza, quello che volete, gorgonzola. Basta sostituire la mozzarella al formaggio che avete in casa. Aggiungeremo del parmigiano così un pochino occhio e della panna fresca, sale e pepe. Tutto qua. Per farlo è sufficiente avere un frullatore. Mettiamo i nostri albumi, mettiamo la nostra mozzarella, ho già un po' pezzetti per facilitare i passaggi, un po' di parmigiano così a occhio che non vada a coprire troppo gli altri ingredienti, pepe se vi piace, un po' di sale e la panna fresca. Non ci resta che frullare tutti gli ingredienti insieme. A questo punto ci servono degli stampi per poter mettere l'impasto dei tortini. Io uso questi qui in alluminio uso e getta che sono comodissimi e ci mettiamo un po' di spray staccante. Potete, se non avete lo spray staccante, mettere un pochino di burro. L'avete fatto apposta. Mettiamo il nostro composto nei tortini. Aumenteranno un pochino di volume in cottura, però poi dopo scenderanno. Nel frattempo scaldate il forno a 150 gradi. Io ho usato tortini di diverse misure, ma solo perché di questi ce n'erano solo due, perché se no le avrei fatti tutti uguali. Una cosa molto importante è che questi tortini devono essere cotti a bagnomaria per rendere la cottura ancora più delicata. Quindi il forno è a 150 gradi. Adesso lo inforniamo. Ma prima dobbiamo mettere un po' di acqua nella teglia. Perfetto, un paio di centimetri sono più che sufficienti. Ve l'avevo promesso che sarebbe stata una ricetta super veloce, quindi adesso le mettiamo in forno. 25 minuti. Abbiamo sfornato i nostri tortini e adesso dobbiamo sformarli, sperando che vengano bene. Poi li possiamo decorare come vogliamo. Io, avendo utilizzato la mozzarella come formaggio, adoro ricreare il sapore della pizza e quindi ho preparato dei pomodorini confit, dell'origano e delle acciughe, ma voi le potete fare come volete. Sono buonissimi anche così. Allora, adesso speriamo che si sformino bene. Lo staccante l'ho messo. Vado di cattiveria, eh? Non sono stata abbastanza cattiva. E là! Bellino, bellino. Allora, lo faccio col dito, tanto poi lo mangiamo noi. Guardate com'è morbido. È scioglievole, è bellissimo. Adesso sono anche doppiamente contenta. Mettiamo qualche pomodorino, un'acciughina, un po' di origano e, come in ogni pizza che si rispetta, un rametto di basilico. Ecco qua i miei tortini di mozzarella nati con l'intenzione di riciclare gli albumi che non avevo utilizzato. Ciao a tutti! Guarda che bello! Sì! E niente, ci potremmo mettere un giro d'olio, però ormai avete staccato tutto. Lo facciamo per noi, perché ci dobbiamo volere bene. Grazie!